Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Per certi versi questo è un appuntamento monotematico perché parliamo di studenti e di scuola. Questi gli argomenti. Affronteremo il tema del sovraffollamento delle classi, sia un organico Covid, soprattutto una proposta di risoluzione approvata dall'Aula con voto unanime. E poi si parla degli istituti tecnici che sono una vera opportunità per il lavoro. C'è un voto unanime di una risoluzione che è arrivata dalla Quinta Commissione Cultura. E poi educazione alla legalità finanziata con i rimborsi dei consiglieri del periodo lockdown. E quindi un tema molto interessante. Come peraltro è il primo argomento. Le criticità che sono state prodotte dal sovraffollamento delle classi e sulla richiesta di attivazione dell'organico Covid anche per l'anno scolastico 2021-2022 sono al centro di una proposta di risoluzione approvata dall'Aula con voto unanime illustrata alla presenza della Commissione Cultura e al suo presidente Cristina Giacchi che si è concentrata sul dimensionamento della scuola pubblica a un sistema di norme complesse che però sono fermi al 2009. L'organizzazione delle classi, almeno così, si dovrebbe impegnare con la risoluzione la giunta regionale in modo che possa anche attivarsi per quanto riguarda il confronto con il governo e del Parlamento, opponendo la questione anche alla conferenza delle regioni affinché nell'ottica di evitare e prevenire le criticità derivanti dal sovraffollamento delle classi si possa valutare una revisione della normativa vigente in materia, quindi sollecitando, come detto, il governo. Ascoltiamo anche il parere dei consiglieri, della Presidente della Commissione in apertura il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni dalla conferenza che ci ha rilasciato dopo appunto il Consiglio regionale del 7 di luglio. Ma io ritengo che innanzitutto il primo problema sulla scuola sia quello di arrivare con un'adeguata vaccinazione per cui noi riapriremo il portale fra pochi giorni e in questo caso metteremo una voce specifica anche per i ragazzi dai 12 ai 16 anni che finora non avevamo mai preventivato nella copertura vaccinale. Naturalmente, da un punto di vista oggettivo, noi abbiamo da aprire le prenotazioni ma contemporaneamente le vaccinazioni seguiranno il dopoferragosto proprio perché i poco più di 100.000 vaccinanti possano essere dal 15 d'agosto all'inizio della scuola prevista appunto per la seconda settimana di settembre in grado di essere vaccinati. Devo dire che per quello che riguarda le caratteristiche noi avremo il trasporto pubblico all'80%, questo è l'obiettivo che ci poniamo e avremo la possibilità di offrire proprio in coordinamento con gli uffici del Dipartimento e la pubblica istruzione di livello regionale con i funzionari delle occasioni di incontro per capire come si prevede, diciamo, di comuni accordo, di poter procedere nella disposizione logistica delle classi, della composizione all'interno delle scuole di quelli che sono gli aspetti che garantiscono la prevenzione. Del resto, la situazione vaccinale oggi in Toscana si presenta buona anche rispetto alle punte d'aumento che invece vediamo pur nell'attenuità dei contagi avviene in altre regioni, stamattina siamo a 42 contagi e conseguentemente una media che non va oltre i 300-350 contagi settimanali. Questo rende la Toscana sicura sul piano delle possibilità di estensione della pandemia ma contemporaneamente ci impone di essere sempre in guardia e soprattutto di utilizzare questi mesi estivi per le vaccinazioni e sono contento che noi stiamo continuando a proseguire su un ritmo di 30.000 vaccinazioni il giorno e questo ci porta ormai su punte che si avvicinano ai 3.300.000 come livello di vaccinazione complessivo nella nostra regione che non dimentichiamo a 3.668.000 abitanti. Sì, la Quinta Commissione ha proposto all'Aula una risoluzione che impegni la Giunta a chiedere al Governo due cose fondamentali. Una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle classi perché questa norma è vecchia ormai di molti anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2009 chiaramente non tiene conto delle necessità di distanziamento tra gli studenti che invece il Covid ci ha imposto e che ha visto la didattica sospendersi quando questo distanziamento non poteva essere garantito. Allora chiediamo che venga rivista questo limite e venga abbassato in modo che le classi siano composte da meno studenti e che si possa garantire la frequenza e presenza in sicurezza. L'altro punto fondamentale nell'attesa che avvenga questa importante modifica normativa è che venga predisposto anche per quest'anno l'organico Covid il cosiddetto organico Covid cioè un contingente di insegnanti in più che consenta di fare più classi con minore numero di alunni per classe. Questa è una risposta di breve periodo, immediata chiaramente implica un impegno di risorse importanti per il Ministero di Istruzione ma crediamo che il bene e il valore della didattica in presenza siano da tutelare e da salvaguardare in ogni modo con la ripresa di settembre. Per questo la Quinta Commissione ha proposto all'Aula approvandola all'unanimità un provvedimento che chieda di attivarsi incisivamente con il Governo per ottenere queste due modifiche. Una di breve periodo, ripeto, è una di più lungo periodo che consenta di ragionare strategicamente sulla scuola con maggior cautela e attenzione. Bisogna lavorare fin da subito per consentire una ripartenza della scuola quando terminerà l'estate nelle condizioni che mettano veramente i ragazzi di poter lavorare bene in presenza, fare tutte le misure adottare tutte le misure che consentono soprattutto ai ragazzi di stare in classi a distanza avere docenti, un numero congruo ma soprattutto un atto importante il nostro, quello che porta all'utilizzo dei tamponi salivari come grande elemento di novità il tamponi salivari è una cosa semplicissima basta masticare come fosse una gomma tempo pochissimi secondi si ha la risposta non è invasivo si può fare anche più volte durante la giornata si può fare prima di entrare prima di uscire ed è un meccanismo semplicissimo io, questo atto è importante e abbiamo chiesto che la Regione Toscana sia apripista su questo percorso per le scuole per la didattica in presenza ma anche per lo sport per i centri educativi per i centri di socializzazione per la ripartenza è un quadro di normalità che quando sarà a settembre ci consentirà quindi ai ragazzi di avere delle opportunità di stare in presenza senza dover sottoporre al tampone o senza fare eccessive livelli di precauzioni così come avviene di fatto nel mondo dello sport professionistico adesso si potrebbe fare perfino nello sport e nelle scuole con tamponi salivari e questo sarebbe un elemento di grande novità sicuramente sono delle misure che sono utili ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule e credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza covid e del necessario distanziamento ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno delle aule e delle scuole bisogna dire che la Regione Toscana da questo punto di vista non è sicuramente ben messa perché abbiamo moltissime scuole moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi e questo lo avevamo verificato con dei sopralluoghi che avevamo fatti negli anni scorsi quindi si parte da una situazione piuttosto negativa decisamente e sarà necessario quindi un'accelerazione da questo punto di vista perché non credo sia possibile accogliere di nuovo gli studenti in condizioni inadeguate con il nuovo anno scolastico studenti che hanno sofferto veramente molto per la didattica a distanza la mancanza di socialità in questo periodo e il contatto diretto tra di loro e con gli insegnanti quindi tornare prima possibile alla didattica in presenza e al 100% e garantire anche la sicurezza deve essere una delle nostre priorità parliamo degli istituti di istruzione tecnica a sostenere il consolidamento dell'offerta per dare una risposta logica e consona ai bisogni formativi rispondere alle domande di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte del tessuto imprenditoriale dei singoli territori il Consiglio regionale quindi ha approvato all'unanimità una risoluzione presentata in Commissione Cultura perché il sistema della formazione tecnica superiore è un canale formativo di specializzazione che è mirato a facilitare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro attualmente in Toscana sono presenti sette fondazioni ITS che operano in diverse realtà della regione la formazione professionale terziaria cosiddetta cioè di livello superiore paragonabile all'università ha avuto un forte impulso in questi anni e adesso è in corso una riforma nazionale della legge istitutiva degli ITS e anche un forte incremento dell'investimento in questo settore di formazione che nasce dal PNRR quindi con la nostra risoluzione anch'essa approvata all'unanimità abbiamo chiesto all'Aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani a tutte le province ai settori industriali perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati questa risposta non nasce necessariamente da un aumento delle fondazioni che sono lo strumento giuridico che è adoperato per realizzare questi percorsi formativi ma magari da una loro migliore articolazione e da un aumento dei corsi senza aumento delle fondazioni questo starà al Governo e alla Regione deciderlo noi chiediamo che questo settore sia tributario di forte attenzione perché ci sembra strategico e buoni risultati ottenuti finora senza altro da sostenere gli ITS sono gli istituti tecnici superiori a cui si accede con un diploma quindi sono rivolti a ragazzi diplomati fino a 29 anni sono istituti particolari perché sono specifici delle varie filiere tipo la filiera dell'oro la filiera della pelletteria dell'agroalimentare eccetera in Toscana così come in tutta Italia sono gestiti da fondazioni fondazioni a cui fanno parte comuni enti locali camere di commercio privati anche che gestiscono questi corsi c'è in questo momento una e alla Camera una legge per cambiare un po' qualcosa perché si è visto che in Italia sono poco frequentati per farvi un esempio in Germania sono un milione di ragazzi che li seguono in Italia 20.000 quindi si deve cercare in ogni modo di farli conoscere probabilmente quello che manca è anche un orientamento per i ragazzi delle scuole superiori per far conoscere diciamo l'esistenza di questi istituti dove i ragazzi fanno scuola lavoro quindi gli insegnanti sono per la maggior parte del mondo produttivo poi ci sono anche insegnanti dell'università eccetera e poi fanno degli stage nelle aziende del territorio quindi sono molto importanti proprio perché diciamo che chi esce da lì all'80-85% trova lavoro noi chiediamo con questa proposta di risoluzione che la regione toscana continui a incrementare a dare diciamo quanto dava gli altri anni per gli ITS anche perché nel PNRR ci sono mi sembra 1,6 miliardi a disposizione proprio per questo tipo di istruzione superiore è stato fatto un dibattito anche all'interno della Commissione Europa per quanto riguarda gli istituti tecnici l'ITS e la formazione professionale questa formazione è sicuramente fondamentale ed è necessario improntarla nel modo migliore migliore significa che è fondamentale sì la professionalizzazione specifica per un certo mercato del lavoro che è in continua evoluzione va ricordato ma è necessario anche che all'interno di questa formazione le soft skills quindi quelle capacità trasversali che spesso anche la scuola ordinaria trascura un po' all'interno dei suoi programmi vengano sviluppate perché saranno fondamentali anche all'interno di un mercato del lavoro che come abbiamo detto è in continua evoluzione ed è necessario anche monitorare la qualità dell'insegnamento che viene appunto esercitato per tramite del lavoro delle fondazioni quindi è necessario monitorare dal punto di vista economico come vengono spesi queste risorse e la qualità della formazione che viene fatta questo è fondamentale non soltanto adesso ma anche per il futuro per modulare meglio l'offerta formativa che viene data gli ITS sono degli istituti di formazione importante di istruzione secondaria superiore che consentono ai ragazzi una volta usciti dalle scuole superiori di avere un percorso formativo che consente loro di avere anche una specializzazione per entrare subito nel mercato del lavoro per arrivarci in maniera professionalizzata per fare anche dei percorsi di crescita personali esistono sette fondazioni in Toscana tante delle risorse comunitarie che verranno investite nei prossimi anni noi chiediamo un potenziamento di questo sistema che ha funzionato che dà delle percentuali di occupazioni altissime che consente comunque ai ragazzi di continuare a formarsi di crescere quindi di avere un processo di cultura costante ma nello stesso tempo interazione pubblico e privato imprese e regione per cercare mediante questi processi di formazione di consentire di avere dei percorsi di inserimento lavorativi mirati in base ai settori produttivi che necessitano di formazioni professionali quindi al nostro avviso è un meccanismo che va incentivato non tanto in termini di numero di fondazioni quanto come numero di attività e di settori che possono appunto dare un percorso formativo importante ai ragazzi il consiglio regionale della Toscana ha approvato con voto unanime una delibera per la destinazione delle somme derivate dai rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali nel periodo del lockdown si tratta di 75 mila euro che saranno destinati a realizzare un progetto rivolto ai giovani tramite un apposito bando a cui potranno partecipare associazioni o enti senza scopo di lucro impegnati nella lotta alla mafia e alle criminalità organizzate avrà lo scopo proprio di favorire l'educazione alla legalità delle generazioni più giovani ascoltiamo su questo argomento il presidente del consiglio regionale sono felice ed orgoglioso che il consiglio regionale abbia approvato all'unanimità una mia proposta condivisa con tutte le forze politiche utilizzare i rimborsi derivanti dal periodo del lockdown dei consiglieri regionali e metterli a disposizione di un grande progetto culturale contro le infiltrazioni mafiose lo abbiamo voluto con forza è un modo per aiutare i ragazzi e le ragazze a collaborare insieme a noi per ergere un muro contro le infiltrazioni mafiose un progetto culturale che vogliamo portare nelle scuole della Toscana un modo per vaccinare le ragazze i ragazzi toscani a creare un argine contro le infiltrazioni mafiose tutto questo lo abbiamo voluto insieme a tutte le forze politiche e questo è un risultato importante e vogliamo costruire questo grande progetto insieme alle scuole e alle associazioni che operano sul territorio toscano e per questo nostro appuntamento è tutto vi ricordo per avere approfondimenti delucidazioni chiaramente anche sui temi che abbiamo affrontato in questo appuntamento vi ricordo il sito inter www.consiglio.regione.toscana.it vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il consiglio www.consiglio.org